Nulla da fare, fumata grigia, i candidati per il centrodestra alle prossime elezioni comunali per Campobasso e Termoli non sono ancora stati designati. La riunione tra i segretari di partito del centrodestra regionale è durata circa due ore e trenta, chiarite sicuramente delle situazioni, ma evidentemente non tutte. Ci prenderemo ancora qualche giorno, lunedì avremo i nomi, così di Sandro, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Ma sì, è stata una lunga discussione, direi con delle cose concrete. Ci siamo aggiornati a lunedì per definire e perfezionare la proposta definitiva. Sera credo di sì, credo di sì. Per lunedì a sera credo che si sarà chiarito qualche piccolo passaggio e per lunedì avremo sicuramente il candidato sindaco del centrodestra unito, compatto e sempre più forte. Ma già siamo rimasti accorti che facciamo questo tipo di dichiarazione in attesa di lunedì. No, non hai capito.